Amici Trebimete, un bentrovati da Luca Pace, giornata di domenica che vedrà l'azione di due diverse perturbazioni sull'Italia. La prima piuttosto debole di origine atlantica, la seconda invece risalita dal Nord Africa porterà fenomeni anche intensi sulle due isole maggiori. Vediamo nel dettaglio appunto le precipitazioni attese. Sin dal mattino deboli piogge potranno interessare le regioni di Nord Ovest, ma anche in parte quelle dell'alto versante tirrenico. Vedete invece questi rovesci e temporali risalita sul canale di Sicilia. Nel dettaglio ecco la previsione per quanto riguarda l'Italia. Vedete condizioni di cieli molto nuvolosi un po' su tutta la nostra penisola. Piogge in genere di debole intensità interesseranno le regioni di Nord Ovest, ma anche la Liguria e l'Alta Toscana. In risalita invece piogge anche intense sulle estreme regioni meridionali, specie sulla Sicilia, potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Temperature come notate decisamente gradevoli per il periodo, le massime potranno ancora una volta toccare i 15-17 gradi sulle regioni del sud. Con questo è tutto, ma ulteriori dettagli vi aspettano come sempre scaricando la nostra app gratuita 3B Meteo.